Nuova chiusura per la Tiburtina Valeria dal 17 al 27 aprile 2023 tra Popoli e Corfinio in entrambe le direzioni. L'ANAS, per l'occasione, ha indicato le soluzioni alternative, ovvero la deviazione sulla strada per Vittorito per i veicoli leggeri e in autostrada per i mezzi pesanti. Gli interventi riguardano l'ampliamento della sede stradale, la rettifica di curve, il livellamento altimetrico della statale, la sistemazione dell'incroci con strade vicinali, innalzando gli standard di sicurezza sull'infrastruttura. In particolare la chiusura è necessaria per consentire gli interventi di raccordo tra la viabilità esistente e la viabilità in progetto che attualmente si trovano su livelli sfalsati, lavori che vanno avanti da due anni e che fecero scattare rimostranze da parte degli amministratori e dei latomobilisti disagi in vista.